Inizia un periodo duro dove all'andata abbiamo raccolto poco, molto meno di quello che avremmo dovuto raccogliere, cosa che in questo giro di ritorno non possiamo fare, perché adesso ci giochiamo tanto, ci giochiamo tutto, quindi dobbiamo pensare alle prossime partite, ormai la partita con la fermana è andata. Penso che dobbiamo giocare come sappiamo, dobbiamo mantenere la nostra identità, dobbiamo come dice il mister avere consapevolezza di quello che siamo e di quello che possiamo fare, quindi penso che dobbiamo pensare prima a noi, a ricominciare a giocare come sappiamo, come abbiamo fatto con la fermana, a continuare con il nostro stile di gioco e andare lì per far bene, per portare via i tre punti perché sono importanti, sono tre punti che penso possano valere doppio perché è una diretta concorrente, quindi fai tre punti in avanti e lasci loro più indietro, quindi dobbiamo andare lì convinti, convinti di far risultato con l'aiuto di tutti, della società, del pubblico che ne abbiamo tanto bisogno.